Il Paradiso delle Signore, spoiler 22 a 23 Armando colpito dall'impegno di Perico. Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate del Paradiso delle Signore in programma mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio. Gemma inizierà a provare timore nei confronti di Carlos, soprattutto dopo essere stata messa in guardia sul suo conto. Mentre al negozio d'abbigliamento farà ritorno una vecchia conoscenza di Vittorio. Al circolo ci sarà un grosso problema che metterà Marcello in una posizione del tutto scomoda, infatti avverrà un furto. Intanto Armando Ferraris resterà profondamente colpito dall'impegno di Alfredo Perico per conquistare Irene. Nella puntata di mercoledì 22 febbraio del Paradiso delle Signore l'attenzione si concentrerà soprattutto su Carlos. Nonostante in un primo momento Gemma abbia reagito con un calance davanti all'oscuro segreto del suo spasimante. Finirà per cambiare idea. Tutto ciò avverrà il giorno seguente alla serata trascorsa insieme e Gemma non esiterà a parlarne con Roberto Landi. Mettendolo al corrente dei suoi timori riguardanti Carlos. All'atelier la situazione si ingarbuglierà quando Maria, una volta portati al termine dei buzzetti. Non si sentirà abbastanza soddisfatta da mostrarli al direttore Conti. Nel frattempo, Vittorio avrà a che fare con l'arrivo a sorpresa di una sua vecchia conoscenza. La giornalista diletta D'Ambrosio. Quest'ultima metterà a piede nel grande magazzino milanese con l'intenzione di strappare un'intervista a Vittorio. Ma finirà anche per uscire con lui generando un certo fastidio in Matilde. Al circolo Marcello rassicurerà dell'Aide sul conto del suo amico Mattia, a prescindere dal passato turbulento Cro ha portato a scontare una pena in carcere. Ma Umberto sarà pronto a sferrare l'attacco decisivo contro Barbieri e lo farà sfruttando il passo falso del fioraio. Intanto Armando resterà colpito dall'impegno di Alfredo nel conquistare Irene Cipriani. Nella puntata di giovedì 23 febbraio del Paradiso delle Signore Salvatore, seppur non voglia dare false speranze a Ilvira. Deciderà di darle una mano con le lezioni di ballo. Sarà così che il barista metterà da parte i propri interessi per venire incontro alla Venere, sperando di risollevarle l'umore. Al circolo ci sarà del fermento a causa di un furto. Mattia confesserà a Marcello le proprie responsabilità in merito all'accaduto. Ma Barbieri intuirà che dietro al gesto dell'amico si cela lo zampino del commendatore Guarnieri. Nel frattempo Vittorio verrà a sapere da Diletta che i due già si conoscono. La giornalista è una vecchia conoscenza del direttore del Paradiso delle Signore. Infatti diverso tempo prima avevano avuto modo di lavorare insieme per un'agenzia pubblicitaria. Grazie. 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 Grazie.